Qui al tavolo sono il segretario Matteo Piolatto, c'è Angela Antonio Viscione che è il nostro responsabile della comunicazione e Giuseppe Naglieri che è il nostro candidato al CNSU per le elezioni della prossima settimana. Abbiamo diffuso un questionario nei mesi scorsi, una cosa che avevamo già fatto tre anni fa, quindi insomma cerchiamo di dare una regolarità triennale a questo in modo tale da avere una contezza un po' sulla condizione dei dottorandi in Italia. Giuseppe in queste settimane è in giro per Atenei, per campagna elettorale, parlando con i colleghi credo che, non so se questi elementi trovino riscontro in qualche modo, nel senso... Sì, diciamo che gli elementi che emergono oggi nell'indagine che presentiamo oggi effettivamente poi trovano assolutamente riscontro, hanno trovato riscontro nelle chiacchierate che ho fatto con numerosi colleghi nel giro di queste settimane, di queste due settimane per gli Atenei italiani. E in particolare credo che sia molto rilevante il dato, direi aggregato, tra il 39% che ci chiede le garanzie su qualità, risorse, organizzazione e internazionalizzazione della formazione dottorale e quel dato di quel 28% che chiede più monitoraggio sui tutor e ancora una volta sulla formazione dottorale. Da qui emerge un quadro del dottorando italiano assolutamente, direi, non particolarmente soddisfatto della qualità dell'offerta formativa erogata all'interno del corso di dottorato. Ricordo che in tutte, pressoché tutti i dipartimenti che ho girato, la questione emergeva in maniera prorompente, anche con una certa ilarità in alcuni momenti, perché tutti riscontravamo assieme una particolare questione. Quella che attualmente emerge un certo generalismo attratti in alcune situazioni, pressappochismo nel predisporre il calendario delle attività didattiche che non sono tarate né spesso né sul singolo settore scientifico disciplinare e ciò chiaramente è anche una conseguenza della creazione di questi mega dottorati con talvolta 21 settori scientifici disciplinari, mi riferisco per esempio al mio, al settore giuridico, all'area giuridica, all'interno del quale è molto complesso garantire una formazione adeguata, specialistica e che sia tendenzialmente in linea con il taglio scientifico del corso di dottorato. E ciò emerge, direi, tanto nei dipartimenti e nei dottorati a caratterizzazione scientifica che in quelli delle scienze sociali umanistici. Emerge in particolare una, potremmo dire, innanzitutto oltre alla questione della, direi, disattenzione al settore scientifico del singolo dottorando del progetto di ricerca anche un disequilibrio anche a livello di tempo dedicato tra l'attività di ricerca individuale e quella di formazione, nel senso che molti colleghi lamentano che l'attività dedicata alla formazione talvolta, all'offerta alla formazione talvolta inadeguata è tempo sostanzialmente sottratto all'attività e di laboratorio e di ricerca individuale. E ciò perché ciò accade, banalmente, e questo è ciò che emerge dal confronto, è ciò che accade perché, credo, ci sia l'assenza di uno strumento normativo nazionale che regoli in qualche modo, in maniera più uniforme, gli obblighi formativi nei confronti del dottorando. E con riguardo alla relazione con il tutor, ma soprattutto con riguardo all'interno del percorso, alle attività formative, alla platea delle attività formative erogate dal corso di dottorato. Ciò accade, potremmo dire, emerge in maniera prorompente la necessità, credo, di porre un'argine a questa questione nel ponderare, cercare di ponderare due interessi, che sono sicuramente il primo, quello di mantenere l'autonomia scientifica del collegio e del supervisore, ma al contempo di garantire uniformità, che è soprattutto garanzia di uguaglianza. E quindi, banalmente, le proposte a livello normativo potrebbero essere molteplici, esistono strumenti che flessibilmente possono intervenire nella questione delle attività formative e tuttavia ciò che emerge è la necessità di uno strumento normativo che raccolga questa frammentazione, perché poi è una frammentazione che crea disuguaglianze non solo tra atenei, non solo tra dipartimenti, ma tra dottorandi dello stesso corso di dottorato. E la stessa, direi, e passo quindi alla seconda, questione che emerge è la questione che ha, potremmo dire, le stesse fondamenta, cioè l'assenza di una cornice normativa nazionale più coerente e unitaria e attiene alla questione delle risorse, attiene in particolare all'utilizzo del fondo di finanziamento ordinario del 10% che, come sappiamo, il regolamento ministeriale 45, il regolamento 45, dice debba essere attribuito generalmente al dottorando un fondo non inferiore al 10% e tuttavia emergono disparità, direi, ancora più rilevanti rispetto a quelle che rileviamo nelle attività formative, perché le disparità sono tanto nell'accesso, innanzitutto, direi, nella conoscenza dell'esistenza del diritto al fondo di finanziamento, quanto nell'accesso, quanto, direi, nelle procedure, banalmente anche nelle modulistiche, il che comporta, ancora una volta, disparità, come diceva Matteo, non solo all'interno degli Atenei, ma tra dipartimenti, vista l'autonomia dei dipartimenti e visto che questi fondi sono trasferiti ai dipartimenti che li gestiscono, benché questi siano attribuiti in maniera unitaria al dottorato. E qui la proposta si fa, chiaramente, ed è una proposta che già abbiamo in qualche modo avanzato, in sede dell'ultima seduta del CNSU, quella conclusiva, Matteo ha avuto modo di parlare con il capo dipartimento del Dipartimento Formazione e Ricerca di questa questione in particolare, e la proposta che noi, già nel nostro programma elettorale, ma che continuiamo a presentare, è quella di iniziare ad attribuire nominalmente al singolo dottorando questo fondo, così da eliminare una serie di problemi. E tuttavia non è sufficiente, nel senso che anche qui emerge la necessità di uno strumento nazionale, una nota del Ministero, una circolare del Ministero, che in qualche modo, pur flessibilmente, provi a uniformare le disparità presenti tra gli Atenei. E poi, e qui chiudo per dare la parola alla fine della presentazione, ciò che emerge, e di questo parleremo adesso, è sicuramente, nei colleghi, una forte, direi, preoccupazione per ciò che attiene al percorso che va, dalla fine del dottorato, dall'acquisizione del titolo, a, per chi voglia, proseguire la carriera accademica. Cioè, frutto sicuramente della precarizzazione avvenuta negli ultimi dieci anni, e sicuramente i dati, che adesso avremo modo di vedere, ci danno un plastico quadro della situazione. Quindi, ripasso la parola. Grazie.